Ciao a tutti, siamo qui in Piazza Palazzo di Città a Torino e abbiamo aderito alla mobilitazione nazionale per i diritti umani in Egitto e in tutti i paesi. In particolare chiediamo verità e giustizia per Giulio Leggeni e chiediamo verità, giustizia e libertà per Patrick Zaki. Questa mobilitazione è stata organizzata dalla rete italiana Pace Disarmo e tantissime città italiane oggi, 19 dicembre, dalle 11 alle 12 stanno organizzando dei presidi in tutte le piazze principali davanti ai propri comuni. Siamo qui per chiedere che l'Italia faccia tutti i passi necessari perché la giustizia possa essere ristabilita, perché il rispetto della dignità delle vittime possa essere ristabilito. Chiediamo in particolare che vengano interrotti tutti i commerci di armi, la vendita di armi italiane di due fregate militari al regime di Alsisi. Siamo qui per i diritti umani, come abbiamo detto, per l'Egitto, ma per tantissimi altri paesi. Tantissimi altri paesi purtroppo sono teatro di violazioni e di discriminazioni per la guerra, per la limitazione delle libertà. Ricordiamo la Siria, ricordiamo la Turchia, ricordiamo l'Iraq, l'Afghanistan, così come ricordiamo la Nigeria, il Sahara occidentale, l'Etiopia, l'Eritrea. Sono tantissimi paesi in questo momento dove purtroppo tantissime persone, l'Iran, rischiano la propria vita giornalmente e noi siamo qui per dare voce a loro, siamo qui per loro. Grazie.